Allora, mister Zamboni, è arrivato questo 1-1 tra Chase e Corner, non è stato facile giocare col vento e col freddo, la sua squadra nel finale ha avuto delle buone occasioni. Sì, tante occasioni nel finale non concretizzate, era la prima partita dell'anno dove vi era un forte vento e quindi si sapeva che poteva vincerla chi sbagliava di meno, purtroppo il suo gol ce l'ha frenata lì e abbiamo un primo tempo, ci avevamo messo un pochettino troppo a capire le giuste distanze, come colpire il pallone, come attaccare, molto meglio una ripresa, tante occasioni create, anche loro hanno un'ultima traversa. Una ripresa, potevano vincere alla fine entrambe, forse qualche occasione più noi, va bene così. Un pareggio giusto? Forse per le occasioni finali qualcosina da ricriminare abbiamo, ma dico un pareggio giusto perché è sempre un piacere iniziare l'anno con un grande amico come Franco Bobba, un vero signore del calcio. Bene, grazie mister, preziontamente buona epifania. Grazie. Grazie.